Salve tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, è arrivato così il nuovo driver su GeForce Experience ovviamente se avete problemi a scaricarlo su GeForce Experience ti ho lasciato il link in descrizione che ti porterà sulla pagina per scaricare Nvidia App in formato beta ovviamente è appena uscita questa nuova applicazione che ti fa scaricare driver ti fa così personalizzare la grafica al tuo gioco e puoi anche boostare così gli FPS su qualsiasi gioco che vuoi come Fortnite, quindi in questo caso andiamo così a scaricare l'applicazione Download Beta installiamo così l'applicazione ovviamente se per caso ti esce un errore tipo come questo è perché quando vai a fare un download su vai a scaricare così un nuovo driver ti dice riavvia ora o riavvia più tardi sicuramente avrai fatto riavvia più tardi e poi vai a scaricare così l'applicazione Nvidia App Beta quindi in questo caso noi adesso andiamo a riavviare un attimo il sistema operativo e poi continuiamo così l'installazione dell'app Nvidia una volta riavviato così il sistema possiamo direttamente installare la nostra applicazione Nvidia App esegui come amministratore ed eccolo qua passa a app Nvidia e lo aggiorniamo accetta e installa ed eccolo qua seleziona un driver preferito driver game rating per i giocatori e per i creatori io metto per i giocatori perché gioco faccio avanti ottimizza giochi e applicazioni creative per ora non ottimizzo niente perché andrò a fare tutto manualmente abilita sovrapposizione Nvidia che sarebbe tipo quella sovrapposizione quando vai a registrare salvare le clip oppure fare le live questo sì riscatta premi esclusivi questa è nuova accedi per riscattare una volta fatto così l'autenticazione possiamo direttamente a passare così all'ottimizzazione dei giochi quindi in questo caso questo è il nuovo pannello di GeForce Experience quindi Nvidia App in beta qui ci sono i driver quindi ogni volta che rilasceranno degli aggiornamenti quindi andremo così a scaricare e installare i nostri aggiornamenti come puoi vedere mi fa reinstallare il vecchio aggiornamento che ho fatto 10 minuti fa la correzione grafica e qui possiamo direttamente passare così all'ottimizzazione di un nostro gioco quindi in questo caso io vado direttamente su un gioco gioco non è ottimizzato quindi facciamo ottimizza possiamo metterlo su prestazioni oppure qualità come puoi vedere occlusione ambientale, antieles, qualità nuvola, modalità visualizzazione qualsiasi cosa tu qui puoi modificare tutte le impostazioni grafiche al tuo gioco ora prendiamo un gioco dove ok prendiamo Fortnite quindi prestazioni o qualità metto prestazioni risoluzione 3D75 anteprima valore 100 diamo un po' effetti limite frequenza fotogramma illimitata, tutto disattivato un nuovo pannello per aumentare e migliorare così le prestazioni a un gioco riscatta questa come ho detto si questa riscatta di mettere i codici scondi riscatta di codici scondi, premi esclusivi e impostazioni e qui ti fa vedere tutti i componenti che hai nel tuo PC RAM, CPU, questo è il monitor, scheda grafica, sistema operativo e i driver gli ultimi aggiornati del 22 di febbraio sovrapposizioni Nvidia che si apre con Alt più Z eccolo qua, è cambiato ovviamente, è cambiato, non è più quel pannello che sta proprio al centro dello schermo registra ok, instant replay lo attiviamo ed eccolo qua registra modalità foto momenti salienti qui dove vai poi ah qui quando vai a fare le kill, morti, azioni e te li salva qua microfono finito di gioco in modo da foto quindi ovviamente questo è il nuovo GeForce Experience in Nvidia App però è in beta quindi se vi piace questo nuovo pannello scaricatelo e installatelo oppure se non vi piace potete sempre tornare a GeForce Experience sempre sul loro sito basta scrivere GeForce Experience e lo installi quindi se questo video vi è stato utilissimo su come scaricare, installare e usare il nuovo Nvidia App per registrare e fare live oppure fare clip sui due giochi iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao